se sei preoccupato su come gestire il tuo debito con il fisco ecco non perderti assolutamente il webinar gratuito di mercoledì ore 18 sarà un webinar interessantissimo perché andremo ad analizzare tutto quello che riguarda la rottamazione quater per chi magari non è riuscita a gestire la prima rata anche per le persone che hanno timore di non riuscire a pagare la seconda rata di fine novembre 2023 ma andremo a vedere che cosa è possibile fare con le eventuali intimazioni di pagamento che arriveranno sicuramente per chi è decaduto ma andremo oltre perché verificheremo insieme all'avvocato simone forte e all'avvocato umberto sieri tutto quello che prevede il codice della crisi d'impresa ascoltami bene che tu sia un contribuente che tu sia una partita iva che tu sia una società il codice della crisi dell'insolvenza prevede la possibilità se ci sono le condizioni di ridurre il tuo debito anche del 70 80 per cento e pagare il residuo 20 30 per cento sempre se ci sono le condizioni dai 5 fino anche ai 10 anni mi raccomando ricordati che potrai fare come al solito una domanda in diretta quindi ti risponderemo io l'avvocato simone forte e l'avvocato umberto sieri te lo ricordo mercoledì ore 18 iscriviti perché il webinar è gratuito anzi se puoi fa girare questo video perché tantissime persone professionisti e imprenditori hanno il diritto di sapere come oggi è possibile risolvere con il fisco